In questo video vediamo la recensione dei 5 migliori decoder di Wubi T2 in vendita online. Prima di iniziare con il video ti ricordo che trovi tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Iniziamo. Numero 5. Al quinto posto troviamo Tempo TMP 4000. Semplice e compatto. Il decoder è compatibile con il nuovo standard di Wubi T2 e si caratterizza per la resa video in Full HD. Il dispositivo è facile da installare, non si surriscalda e non necessita di manutenzioni. La transizione tra le frequenze è fluida e veloce, e l'organizzazione dei canali può avvenire in due modi, manuale e automatico. L'ottimo rapporto qualità-prezzo e l'interfaccia intuitiva sono un punto a favore, così come la vasta gamma di accessori spediti nella confezione, cavo HDMI, presa a scarto con uscita video, telecomando e ricevitore infrarossi. Il prezzo è di 29 euro. Numero 4. Al quarto posto troviamo SRT8541FTA. L'installazione guidata ti porta attraverso il menu di messa in servizio iniziale in pochi passaggi. Impostazioni come regione e lingua sono fatte per un uso corretto. Il tuo ricevitore Strong sarà pronto per l'uso dopo un breve periodo di tempo per il tuo divertimento in TV. Non perderai mai più una trasmissione. La funzione di timer e la guida elettronica e i programmi, consentono di impostare una data, un'ora e una stazione a scelta. Il rispettivo programma si attiva automaticamente al momento del timer prenotato. È possibile salvare fino a 10 timer con 4 modalità una volta, giornalmente, settimanalmente e nei giorni feriali. Se ti trovi occupato o in viaggio, registra il tuo programma preferito tramite la porta USB. Il prezzo è di 39 euro. Prima di passare al prodotto numero 3 iscriviti a prezzo e recensioni per non perdere le migliori offerte del web in anteprima. Numero 3 Al terzo posto troviamo Strom 506M. Il ricevitore digitale terrestre consente la ricezione della nuova televisione aerea ad alta risoluzione DVB-T2 HD e SD. Con il ricevitore, puoi provare l'intera gamma di programmi di servizio pubblico disponibili nella tua area di trasmissione. Collegando un disco rigido esterno, il dispositivo diventa una stazione multimediale e consente così allo spettatore una maggiore flessibilità nella progettazione della propria serata televisiva individuale. La televisione digitale terrestre con un futuro, ottiene immagini nitidissime trasmesse in full HD TV. Il prezzo è di 33 euro. Numero 2 Al secondo posto troviamo l'IFU Tempo. File video possono essere decodificati. Risoluzione massima, 1080 megapixel. La porta USB fornisce alimentazione sufficiente per alimentare i dischi rigidi esterni senza alimentazione aggiuntiva. Lettore multimediale per file audio e video. Ricezione multitrasmettitore Quando l'adattatore cattura due trasmettitori, seleziona il meglio di entrambi per ottenere una ricezione di qualità ottimale. Registra i sottotitoli e programmi multi-audio. Il prezzo è di 39 euro. Numero 1 Al primo posto troviamo Nokia. Ricevitore in qualità HD, facile installazione e design minimalista. Programma TV digitale incluso, con un solo clic, è possibile accedere facilmente alla guida direttamente sullo schermo, sarete sempre aggiornati e potete inoltre impostare un timer per i programmi TV successivi che non volete perdere. Elenche di canali personalizzati I tuoi programmi preferiti sono disponibili rapidamente in qualsiasi momento. Puoi creare le tue liste di canali personalizzate, distinguere tra genere, membri della famiglia o altre preferenze, passare tra programmi TV, film, sport e molto altro in pochi secondi. Puoi anche riprodurre le tue foto e i tuoi video facilmente, collegare il disco rigido o l'unità flash USB e iniziare a riprodurre video, foto o registrazioni audio. Il prezzo è di 47 euro. E tu quale comprerai? Faccelo sapere con un commento. Trovi il link al prodotto sotto al video in descrizione o nel primo commento. Lo staff di Prezzo e Recensioni ti ringrazia per la visione.